It's not right, but it's okay, I'm gonna make it anyway, pack your bags up and leave, don't you dare come running back to me Siamo tesi, c'è la partita, mo' entra da gente giovane di là, anche se siamo tecnicamente magari più dotati, c'è la parte virga che ci può mettere in difficoltà Marco, impressionante! Hai imparato da quaresma, la trivella, da quaresma portugese imparato Una grande emozione, una grande emozione ancora, e questa è la cosa anche bella, ritrovare tanti ex compagni, amici, veramente straordinari Come stai? Molto bene, meglio di quello che pensavo, credo Può essere bello, giocare di nuovo con tutti i ragazzi, con tanta passione e sempre per vincere I tried, but it's okay, I'm gonna make it